Ciao, sono Matteo Roversi di Workaround. Workaround è un'applicazione mobile che verrà lanciata tra pochi giorni in alfa per Android. Serve per trovare occasioni di lavoro e spazi di lavoro intorno a te. Funziona un po' come Foursquare, quindi ci si geolocalizza, si fa check-in in una postazione di lavoro, dichiarando su che cosa si sta lavorando e per quanto tempo si lavorerà su quella cosa. A quel punto la mappa mostra tutte le persone che stanno lavorando intorno a me. Dà la possibilità di connettersi a queste persone e di instaurare un dialogo che avverrà un po' come su Whatsapp attraverso messaggistica istantanea. Le aziende e gli spazi di co-working avranno poi la possibilità di postare eventi oppure offerte di lavoro geolocalizzate sulla mappa e mandare delle notifiche push solo alle persone che sono realmente interessate a quell'opportunità di lavoro o a quell'evento. Se volete più informazioni ci trovate sul sito www.workaround.com e tra poco potrete scaricare la nostra applicazione. Grazie